No, voglio un applauso gelese più international, rientro. Non posso entrare in zona rossa così. Adesso. Grazie, grazie, grazie. Grazie, la vostra spontaneità mi commuove. Grazie, popolo di Gela. Buonasera, buonasera a tutti. Bentrovati, io sono Peppe Tringali, batterista, percussionista. Se vi serve un idraulico, non c'è problema, vengo a casa, a domicilio. Io sono anche docente di percussioni presso il liceo musicale, Turrisi Colonna di Catania. Ma stasera, in realtà, ecco lo strumento del potere, vi parlerò in realtà di una formula matematica di mia invenzione, che, già ridono, non c'è rispetto, che applicata alla fisica quantistica, qui è tutto abbastanza chiaro, genererà un algoritmo che vi farà fare una carbonara buonissima. Oh, scusate, scusate. Ecco, ecco la carbonara. Mi sono giocato le slide. Perfetto. Non va più via la carbonara. Bene. Comunque, poi vi lascio il link qua sotto della carbonara, perché la so fare veramente, veramente bene. Allora, perché sono qua? Boh, non lo so, non lo so. In realtà, credo che la mia vita sia stata condizionata proprio già dai suoni che io, in qualche maniera, sentivo nella pancia della mamma tra la cistifelle e il pancreas, perché è papà catanese, quindi capite bene, con i suoni catanese, questo è, già io lo sentivo, dalla pancia si sente così, lo ricordo. La mamma più, come dire, più algida, più ragusana, più... Quindi questo è... E io, invece, gelese, diciamo, cioè, proprio quasi autoctono, cioè... Quindi tutti questi suoni hanno generato in me proprio l'essere autoctono. I am a gelese, incarcato. Ecco, suggerimento incarcated per la traduzione del TEDx. E, in realtà, io scopro qui la mia passione per la musica, la scopro e accendo il fuoco da Gela. Come la scopro? Casualmente. Il mio amico Gianni, bassista oggi, professionista e multitalento, insomma, talento multiforme, tutto quello che fa... Insomma, andiamo a trovare lui e la sua famiglia in campagna, dove Gianni, io vedevo tutti quanti a destra che erano lì, che stavano mangiando, che stavano bevendo, che stavano... Si divertivano un sacco, Gianni non c'è. Gianni è lì, a tre o quattrocento metri, un puntino, seduto su una sedia, che sta ascoltando già della musica importante, della musica di livello superiore, di qualità artistica eccelsa. Sta ascoltando It's the final countdown degli Europe. E voglio dire, è già, insomma, un percorso importante, stiamo parlando dell'87-88, circa, 12 anni, ma muove le mani all'impazzata, io penso a un disturbo psicomotorio importante, mi avvicino a lui e dopo 32 secondi anche io ero col disturbo psicomotorio. Questo disturbo psicomotorio durerà altri, insomma, 34 anni, ne avevo 12, più 34, 28, fantastico. Li porto bene, lo so, però così, la matematica è, insomma, è un'opinione. Comincio a frequentare un oratorio, che chiamarlo oratorio è assolutamente riduttivo, condotto da Don Angelo, un sacerdote assolutamente visionario, parlo del CESMA, voglio citarlo, dove faccio l'esperienza, la stessa esperienza qui a Gela, che fa un ragazzo a New York, nelle chiese gospel, nelle accademie dello spettacolo, perché noi suoniamo un musical della tradizione americana, della tradizione italiana, anche la bella tradizione siciliana. Ma tutto aveva un senso, una direzione, non era un entità, dico l'arte non era un'entità fine a se stessa, puramente estetica, era un mezzo, un mezzo in quel caso di comunicazione, di educazione. Questo lo prendo e lo porto con me, nella mia esperienza qui a Gela, con i musicisti che mi hanno insegnato, che mi hanno fatto appassionare, che poi sono diventati amici fraterni e colleghi, la porto con me negli studi successivi e nell'esperienza poi di musicista professionista e di docente. Durante il lockdown, chiaramente un momento riflessivo, forzato un po' per tutti, mi chiedo realmente quali fossero questi elementi che, partendo da questo assunto, mi avessero consentito di continuare la professione di musicista e di docente, con questa curiosità crescente, con questa passione, ovviamente non esente tutto da errori, e allora ho generato il mio di algoritmo, quello secondo me importante per me. E il mio algoritmo è formato da questi tre elementi, apparentemente banali, perché noi abbiamo un mondo che ci vuole originali, e secondo me invece tornare al senso delle cose, al significato delle cose, esattamente come quel senso di cui parlavo prima, è quasi fondamentale. La generosità, il batterista, il ruolo del batterista ha in sé la generosità, la generosità di lasciare agli altri il ruolo di solisti, la generosità nel contenere la propria energia e quella dello strumento, che ha chiaramente una grande energia dinamica, per adeguarsi al volume necessario. Il docente generoso è il docente che educa all'errore della polvere, all'accettazione della sconfitta, perché solo attraverso la caduta del sacrificio i ragazzi hanno quella trasformazione, riescono ad arrivare a quella consapevolezza secondo cui il raggiungimento di qualunque obiettivo è possibile affinando l'unico vero talento, che non è la predisposizione musicale, quella aiuta, ma l'unico vero grande talento è la forza di volontà. Essere musicisti onesti significa accogliere tutte le critiche, quelle belle, quelle brutte, soprattutto sono quelle brutte che bisogna accogliere perché questo ti fa andare in profondità, ti fa spostare i tuoi limiti e avere anche la libertà di osare di dire le cose, perché il politically correct a volte, anzi non a volte, blocca l'evoluzione, blocca tutto. Essere docenti onesti significa accogliere i ragazzi, non barricarsi dietro la cattedra o peggio ancora dietro piccoli posti di potere che spianano la strada ai solidi preferiti. Essere musicisti e docenti autentici significa cercare di rinunciare un po' alla vanità per non barattare la proiezione di quello che vorremmo essere con quello che realmente siamo. Questo è il mio contributo piccolo nel piccolo mondo in cui vivo, cioè produrre musica che mi rappresenti autentica e che soprattutto sia fedele a me stesso e formare delle persone che, indipendentemente dalle loro scelte future, musicali o non, genereranno crescita a loro volta in questo contesto di bellezza, di condivisione, di ascolto e di non prevaricazione. E questo contributo io ve l'ho voluto portare qua stasera, proprio pratico. I ragazzi che entreranno oggi, coronando il mio sogno, cioè il sogno di unire i due mondi, di musicista e di docente, sono l'espressione della scuola statale italiana. La scuola che, insomma, tutto sommato, se la cava bene anche senza troppe rotelle o troppi algoritmi che dovrebbero risolvere i problemi, perché c'è il personale scolastico, fatto dai docenti di ruolo, dai docenti precari, dai presidi, insomma, da chi lavora in amministrazione e dal personale ATA, che in realtà sa che la scuola va vissuta ogni giorno e ogni giorno è un'occasione per divertirsi, per andare lì con grande sorriso e grande passione e fare il proprio mestiere divertendosi. Loro sono Mattia Rizza, Luca Vada Là, Luca Vada Là, faccio questa battuta da otto anni, Ginevra a Bonaccorso, Vittoria di Grazia. Loro hanno fatto con me le scuole medie di indirizzo musicale, poi io mi sono stancato di loro, sono passato al liceo musicale, loro stalkerizzando mi sono venuti pure al liceo musicale. Ora basta, ecco, fortunatamente oggi sono degli abilissimi studenti nei conservatori italiani e voglio chiudere questo talk, questo incontro, intanto augurandovi buone feste e con due cose che mi stanno a cuore. La prima è una citazione di una breve poesia di Danilo Dolci, che è un poeta, un attivista, insomma uno che ha lottato tantissimo per i diritti umani, un sociologo che paragona l'insegnamento al sogno. Io ho coniato un neologismo, anche questo sarà un delirio per la traduzione, ho definito questa cosa, il sogno più l'insegnamento, l'arte dell'insognamento, che a me mi piace tanto, ed è questa, ve la leggo, la leggo da qua, non ho bisogno degli occhialetti da 14,99 euro. C'è pure chi educa, senza nascondere l'assurdo che è nel mondo, aperto ad ogni sviluppo, ma cercando di essere franco all'altro come a sé, sognando gli altri come ora, non sono. Ciascuno, questa la dedico a voi, cresce solo se sognato. Danilo Dolci. E mentre raggiungo lo strumento che ha cambiato la mia vita, che è questo qui, ma soprattutto ha cambiato la vita dei miei vicini di casa, voglio dirvi che oggi è il 18 dicembre e il 18 dicembre di un anno fa un medico anestesista gelese, che lavorava al Policlinico di Catania, ci lasciava, lui si chiamava Cristiano Ilardi, il dottore Cristiano Ilardi, e lui per me, per chi lo ha conosciuto, è stato un esempio di grande, insomma, di tutto quello che abbiamo detto, di generosità, di onestà, autenticità e quant'altro. Il suo lascito è quello di vivere bene il tempo che ci viene regalato e di vivere a pieno ogni istante della nostra vita. Tutto questo fracasso è anche per lui. Direccily. Tutto questo fracasso è quello di vivere bene, Tutto questo fracasso è quello di vivere bene, Tutto questo fracasso è quello di vivere bene, Dottierли, insomma, Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.